Per Antonino Speziale, condannato per omicidio preterintenzionale a otto anni di reclusione nell'ambito delle indagini per la morte dell'ispettore Filippo Raciti, le porte dello stadio di Catania resteranno chiuse e non potrà assistere a Catania Juventus di domenica prossima. L'ottomatica non ha emesso il biglietto perché sul sistema appare la scritta rivolgersi in questura. Ma lo fa fare il biglietto? Non glielo fa fare, quindi in Speziale non c'è scritto... No, non c'è scritto niente. Si deve rivolgersi, contattare alla questura di competenze. A Speziale, spiega il suo legale, l'avvocato Giuseppe Lipera, il Tribunale per i minori di Catania ha revocato i due anni di divieto di accesso a manifestazioni sportive, il DASPO, combinati come pena accessoria nella condanna del processo per la morte dell'ispettore Raciti. Quindi, secondo Lipera, può tornare allo stadio. Una cosa assurda è quello che sta avvenendo, eravate presente anche voi, fa la richiesta, gli dà il documento speziale, rivolgersi in questura. Lui ci crede, ci credeva e ci continua a credere. Ora andremo in questura a vedere di risolvere questa cosa. Però non è giusto, perché lui ha espiato questa misura coercitiva, ti vieto di andare allo stadio e quant'è tempo che non vai allo stadio? Adesso cinque anni e anche passa, cinque e due mesi. Il diritto sancito da un provvedimento passato in cosa giudicata che ha emesso il Tribunale per i minori di Catania non molto tempo fa, perciò è un abuso che sta facendo non so chi. Contro la sentenza di condanna è pendente un ricorso in Cassazione che si terrà il prossimo 14 novembre. Per gli scontri al Massimino delle 2 febbraio 2007, il giovane ultra del Catania aveva già scontato cinque anni di daspo disposti dal questore. La diffida mi era finita l'8 agosto. Poi ci hanno dato la revoca perché gli avevano dato una misura cautelare in più, perciò dai cinque me ne avevano dato altri due. Noi abbiamo fatto il ricorso, è stato un mese fa circa. L'abbiamo vinto perché la carta parla, il giudice mi ha accettato di andare allo stadio, però eventualmente ancora non mi stanno facendo il biglietto, non si capisce il motivo qual è. E questa è la realtà dei fatti avvocati. Comunque, il Speziale ormai parla meglio degli avvocati, è brevissimo. E qual è la partita che c'è domenica? Catania e Viventus. Speziale deve andare a vedere Catania e Viventus. Se non si risolve questa cosa in questura, noi verremo qui domenica e lo facciamo entrare di forza. Grazie.